I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Torino hanno concluso un'articolata indagine nei confronti di un suo delizio criminoso, all'interno del quale spicca la figura di un funzionario della motorizzazione civile di Torino, dedito, in ipotesi d'accusa, alla commissione di vari illeciti, tra i quali truccare esami per il conseguimento della patente B. Sono stati segnalati alla locale procura della Repubblica 35 soggetti coinvolti a vario titolo, di cui 4 arrestati, indagati per corruzione, falsificazione di certificati di revisioni e associazione per delinquere. Le misure cautelare hanno riguardato oltre al funzionario della motorizzazione un titolare di agenzia di pratiche auto, un procacciatore d'affari e un rimenditore d'auto, mentre 31 denunciati a piedi libero sono persone candidate a conseguire la patente, nonché soggetti che hanno ottenuto illecitamente la revisione dei propri veicoli, tra i quali anche un autobus. L'attività coordinata dalla citata autorità giudiziaria condotta dal primo nucleo operativo metropolitano Torino ha tratto origine da una segnalazione di un dirigente della motorizzazione civile relativamente a ingiustificati allontanamenti del dipendente funzionario del luogo di lavoro. Le indagini, svolte mediante tecniche sia di tipo tradizionale sia tecnologicamente avanzate, hanno consentito di constatare una serie di attività illecite attuate dal funzionario infedele, il quale a fronte di denaro procedeva alla falsificazione di certificati di revisione, a interrogazioni abusive del sistema informatico e della motorizzazione, nonché soprattutto a truccare gli esami teorici per il conseguimento della patente B. In ordine a quest'ultimo aspetto, è emerso in particolare che alcuni candidati agli esami teorici erano stati dotati di un sistema di collegamento composto da un telefono cellulare microauricolari e nascosto all'interno di un capo di vestiario sul quale era stato praticato un piccolo foro in corrispondenza della telecamera, che consentiva a un suggeritore, nascosto all'interno di un furgone parcheggiato nelle decenze d'edificio dove si svolgeva la prova, di visualizzare il monitor del PC e indicare la risposta corretta agli esaminanti. Questi ultimi, peraltro, non erano sottoposti a alcun tipo di controllo da parte del compiacente personale di vigilanza che ne conosceva l'identità avendone previamente ricevuto l'elenco nominativo. Sequestrate 9 patenti e le lasciate in seguito all'esito degli esami truccati.